Giorno del Signore, 20 maggio 1932, salve, il mio nome è Lewis Baltimore, Mountbatten. Sapevo che non saremmo dovuti venire qua, non ce la faccio più, sono allo stremo delle forze. Sono ormai due giorni che vago tra queste lande desolate, alla ricerca della piramide perduta e del faraone eseguito. Tutti i miei uomini, i portatori, le guide, i miei assistenti mi hanno abbandonato, sono tutti morti. Persino Jensen, il mio fedele cammello, ho dovuto abbatterlo poco fa perché si era rotto una zampa. Sapevo avrei potuto ascoltare quella guida araba che ci aveva sconsigliato tra l'avventurarci in questo deserto in cui al sole biancheggiano le ossa di bestie uomini che hanno usato avventurarsi e sfidare i suoi segreti e la sua arsura. La temperatura è di 47 gradi celsius all'ombra. Mi chiedo come faccio a misurarla, qua in ombra non ce n'è. Speriamo di trovare un'oasi prima che sia troppo tardi. Arrivederci.